Ecco qua, Alibaba con Cigalone! Ciao! Ciao! Buon sì? Allo? Allo? Uno, otto, due, quindici, perché tutta roba rubata al Vaticano, due euro, tre, cinque euro, piccolo, 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 sobra tabola, small, this bigger here, you take inside lemon and orange, you around here for clothing inside, turning, the table, you press here, you have juice, drink, and it's there for fish, the fish and lemon, if you have a dog, the dog has a lemon, dog, you close it or keep it in the fridge? Now we take it. The one that makes rice, this is number one, this is number two for rice, ferretto, maneghetto, they are inside the table, here the table, ferretto and maneghetto, and put it in the potatoes here, when you put it in the potatoes you can take it, hang it out here, hang it, hang it, hang it, when you arrive, stop here, lì va il manico, lì va il ferro, poi dice abracadabra, se no non esce la patata, giri. Se vuoi fa fritta, facciamo fritta nell'olio, se vuoi fa il forno, mette il pollo e mette patata, facciamo il pollo con patata al forno. Questo è un pollo nero africano, quello lì è un pollo melanesi, bianco. Questa qui, quando è bucata la patata, si mette carne, salsiccia. Se non mani la patata ripiena, mani la patata col buco per dimagrire, avete la pancia, se vuoi dimagrire, se non vuoi dimagrire, mette la carota e entra la patata. Quando mette la carota, entra la patata, la cosa più buona nel mondo, quando mette la carota, entra la patata, così facciamo carota con patata e col pollo. Se non c'è il pollo, c'è il cane, ecco il cane, ecco la patata. Se hai una patata, facciamo insieme, c'è la carota con patata. Quando vuoi bucare la succhina per mettere le carni, devi fare piano, la succhina devi fare piano perché è morbida, metti dentro, va sempre dritto, non c'è direzione di dato, non ti ferma nessuno, girare. Quando arrivi, ma quando arrivi, fermi, lì basta manico, lì basta ferro, abracadabra, svidi la patata. La cosa, come si chiama? La succhina. La succhina, mi piace la patata, svidi. Quando esci qua, ti metti carni, se no metti il vetro qui, il vetro lì, vedi la stella, la notte. Questo se vuoi fare pure i gnocchi, tagli qui, facciamo i gnocchi, sai che fai con questi gnocchi? O fa fritta, o fa lessa, o buttiamo in essa. Questo è il numero 3, compro questo? Sanno tutti insieme dentro, c'è anche il numero di telefono, assistenza, chiamami, io mando a mia social a casa tua, metti qua, giri, due giri. Andato qui, fermi, il dito, non questo dito, questo. Metti dentro, vai avanti, citrioli, succhina, patata, qui, quella mela. Quando finisci devi svidarla per uscire. Se vuoi pulire le orecchie, lo metti dentro, esce il cervello se c'è. Quella si fa pure i patata, ecchi e patata qua. Questa è la patata, metti dentro, giri qua, il dito qua, girando così si taglia la patata, le zucchine? 10 e 10, oltre 15. Vedi, citrioli, zucchine, patata, kiwi, la mela. Si esce pure la sera la collanina di patata. Qui stanno tre pezzi insieme, dicevo? E quella lì per fare la carota, eh? E il terzo colato. Ma che ne so? Ah si, quella per fare il suco di banana. Ma che ne so? Ma io... Piccolo tasello con il coltello nel limoncello. Limoncello, coltello, tasello. Sopra la tavola, sopra la tavola. Tasello grande sopra là. Quando fai dentro la patata, dentro... Dentro il limone ti vanno fino al fondo qua, sopra la tavola. Quando ti serve apri, premi e esci su poco. Se ce l'hai il pesciolino, ce l'hai il pesciolino. Il cagnolino è che il cane fa il cane e il limone. Se no metti il tavolo, conservi nel frigo. Dopo cinque anni, se ti serve ancora, apri la pene e esci su poco. Il tavolo metti nel frigo. Quell'altro qui per fare la carota si chiama Giuliana. Qui se vuoi capare tutto c'è una lama per capare la carota e il patata. Se vuoi capare la barba, se vuoi capare la barba. Qui se vuoi bucare tutto c'è la per bucare. Qui se ce l'hai, non ce l'hai il pesciolino, le squame. Se c'è, se non c'è niente. Se vuoi fare le carota, questa parte per fare le carota. Giuliana, insalata, vedi? E quella insalata buonissima, vedi? Apri la mano, senti come buona la carota. Apri la mano, fermati. Ti metti il limone, mangi. Eh, sì. Vitamizzi. Ecco. Buona zucchina quando vuoi fare pasta, quando vuoi fare insalata, quando vuoi fare pizza, Giuliana. Se vuoi tagli tutto, le carota, le zucchine, le patate per fare il minestrone, e là. Se non c'è cazzo da fame, metti dentro il shampoo. Ma anche tu non lo sapevo. 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 Ma per 4 ore. Se fai un plane, capito? Mi saluto. Ma è geniale. E' matto, molto facile. Matto o fracico? La signora mi ha detto, sei matto. Signora, basta matto. No, matto e fracico. Ma io voglio questo. Se prendi tutti due, quindici, quella dieci, dieci. Beh, io non c'è cazzo da fame. Ah sì, sei fortunata allora. 8 euro. Vabbè, va. Tu hai detto, famosa? Io no, io no. Ma quale è famosa? Sto un bianco rovenato. Nero rovenato. Tu bianco rovenato, io nero rovenato. Mi serve la valigia. Pia le due carote che servono. Ah sì, una si mangia. Una si. O non l'ha affettato, mi raccomando. Ecco qua, una L e una XL. Questa L per mangiare. Questa per... Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao.